Accendiamo la famiglia e spegniamo il cellulare. È lo slogan della mobile phone box, un portacellulari di design che vuole essere esempio di comunità educante. A ristorante, al bar, con la famiglia o tra amici, succede sempre più di frequente di consumare il pasto in silenzio, con lo sguardo fisso sullo smartphone. E dunque, perché non cercare una soluzione? Tramite la mobile phone box riusciamo a interpretare il concetto previsto dalla legge sul benessere familiare del Trentino distretto per l'educazione. La mobile phone box nasce dal concorso di tanti attori, le scuole, le cooperative sociali, la provincia, in varie strutture, anche enti terzi, e riusciamo a interpretare il famoso paradigma che tutto educa e l'educazione è ovunque. Tramite la partnership tra Agenzia per la Coesione Sociale, Liceo Artistico Vittoria, Dipartimento Istruzione e Cultura, Cooperativa Girasole e Magnifica Comunità di Fiemme, la mobile phone box sarà diffusa sul territorio, con il fine di alimentare la comunità educante grazie alla sua forte valenza educativa. Partner dell'iniziativa Liceo Vittoria, che tramite un progetto di alternanza scuola-lavoro, ha realizzato 19 prototipi in legno con il coinvolgimento di tre classi. È bello pensare che da un'idea dei nostri ragazzi e dei ragazzi del Liceo Vittoria sia nata questa collaborazione e sia nata proprio questa possibilità di avere degli oggetti concreti e reali che possano essere distribuiti e che ci aiutano a rimanere un pochino più sconnessi, che è un'esigenza sempre più sentita al giorno d'oggi. Per gli studenti è un'occasione importante di crescita professionale, ma anche di riflessione su un problema reale, quello dell'assenza di dialogo, soprattutto nei momenti di convivialità. Quando esci, cioè con gli amici, con la famiglia, non vai fuori per avere una continua distrazione dal telefono o comunque dagli stimoli esterni, cioè vai fuori per parlare con le persone con cui sei uscita, per coltivare queste relazioni, scambiare passioni, obiettivi o comunque crescere personalmente. Quindi secondo me avere la mobile phone è una cosa molto positiva, soprattutto quando si esce e magari si sta a tavola, soprattutto comunque anche semplicemente al bar o quando si beve un caffè, perché sennò è una continua distrazione.